Con questo modulo riusciremo a utilizzare le principali funzioni di Microsoft Word, un programma per l'elaborazione dei testi. Per iniziare a lavorare con Microsoft Office Word 2007, fate clic sul pulsante Start, poi su Tutti i programmi, quindi selezionate da Microsoft Office Microsoft Office Word 2007. Dopo pochi secondi, la finestra di Word si aprirà sul desktop del vostro computer. Per l'ultima versione della suite Office, il cui nome ufficiale è Microsoft Office System 2007, Microsoft ha sviluppato un'interfaccia innovativa e originale, lasciando da parte i menu e le barre degli strumenti per favorire un'organizzazione dei comandi basata sul pulsante Microsoft Office, sulla barra di accesso rapido e in particolare sulla nuova barra multifunzione. Nell'angolo in alto a sinistra della finestra del programma potete trovare il pulsante Microsoft Office, che apre un menu dal quale è possibile effettuare le principali operazioni di gestione dei file. La barra degli strumenti di accesso rapido, che è posta subito a destra del pulsante Microsoft Office, ospita soltanto i pulsanti Salva, Annulla digitazione e Ripeti digitazione. La barra multifunzione, situata subito sotto la barra del titolo, è un'area dove potete visualizzare diverse schede, ciascuna delle quali raccoglie i comandi relativi a una determinata fase di elaborazione del documento. Grazie a tutti!